ragazzi inutile dirvi che sono le 7 12 quindi in linea con i miei soliti orari di partenza sono partito ovviamente da Sutri che è quello là sopra ho dormito in un b&b molto carino con la signora disponibilissima in stanza con Davide che ha russato come un assassino fino alle 3 e mezza di notte quindi anche oggi parto non troppo riposato sono proprio davanti all'anfiteatro di Sutri che magari vado a dare un occhio anche se è chiuso ma butto l'occhio davanti al cancello e niente poi parto per gli ultimi 68 km direzione Roma dove mi aggancerà K e farà con me gli ultimi chilometri verso il cupalone e la mia avventura sulla via francigena sarà conclusa lì spero solo che mi regga la mia ruota posteriore perché ieri ho rotto un raggio non so se ve l'avevo ancora detto e niente ci vediamo poi sulla strada a dopo ragazzi Grazie a tutti Dimenticavo anche di dirvi che oggi è un fantastico venerdì 17 ma io non sono superstizioso come non lo è neanche lui è un po satanista non avere paura ehi un giovane con gli occhi gialli ragazzi miei mancano solo 45 km e non riesco a capire sto un po' perdendo tempo fermandomi sembra che sia proprio lì il mio subconscio che non abbia voglia di concludere questa esperienza non so davvero non riesco a capire proprio magari il non voler chiuderla cioè non voler finire oggi che poi stavo appunto calcolando di farmi anche il ritorno sulla adriatica quindi non è proprio finita però la questione di chiudere oggi la francigena la sto cercando di chiudere nel modo più lento possibile oggi incontrerò anche Marco K come vi ho detto prima mi sta venendo incontro da casa sua sulla traccia e nel pomeriggio forse riesco a beccare anche Er Crotalo e ci berremo una birretta assieme anche con lui aspettate che guardo la traccia se no vado a finire che mi perdo anche l'ultimo giorno ci siamo ci siamo e niente me la sto godendo questa traccia cesta il tuo pezzo qua oggi è bello tranquillo tutto rilassato a parte qualche pezzo un po' con delle strade un po' brutte punte nel senso tutte rotte però si va si va ragazzi è andata è andata porca miseria e anche nella tappa di oggi che è relativamente tutta tranquilla un paio di salittine così al 13% ci deve essere sempre perché i pellegrini devono soffrire sono ormai a 36 chilometri dal cupolone qui comincia l'ultima vera salita quella che porta a Fomello e poi da lì discesa e spiana e poca roba ancora di salite ma questa è l'ultima vera salita della Francigia quindi ci siamo davvero questa volta dopo questi due chilometri è tutta discesa e guardate un po' chi ho trovato lungo la strada il micchia le radici il micchia le radici il mitico Marco K siamo arrivati a Roma adesso mi accompagna lui fino al sciupolone mi ha aperto la porta e mi porta lui giù sostina una sostina rigenerante cornezza se c'è freddo se c'è caldo e si riparte si riparte vera? andiamo siamo in compagnia di Cristina e Silvia là davanti che parla con Marco e Cappa siamo ormai a 13,6 chilometri dal cupolone siamo arrivati Silvia saluta ciao pedalate una meraviglia fate cicloturismo lei è un pezzo grosso della FIAB quindi ascoltatela ragazzi ragazzi siamo ancora sulla citabile mancano 7,3 chilometri e poi ci siamo siamo in città a Ponte Mirco e a mettere il lucchetto abbiamo finito qua il nostro il nostro K dice che dobbiamo mettere il lucchetto dell'amore grazie a tutti Grazie a tutti Cosa hai da dirci? Come sta andando la pedalacista? Io ti accompagno solamente fino a San Pietro Se vuoi ti falsifichiamo una credenziale così ti danno il testimonio anche a te No, ma io non... Voglio partire anch'io insomma, me la farò tutta Fai al contrario, vieni su, ti aspetto a Vercelli Vediamo, vediamo, perché no insomma, invece di fermarti in Toscana stavolta è andato un po' più su Perché no? Secondo me neanche Silvia e Cristina vogliono finire questa avventura Quindi stanno un po' allungando il brodo, stiamo girando in tondo in tondo Niente da fare, stiamo trovando ogni scusa per non arrivare al traguardo Ci siamo fermati pure per una granita e una gratta checca Una gratta checca La gratta checca È un po' allungando il tutto È un po' allungando il tutto nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul giappino e invece eccolo qua quasi 900 chilometri pedalati e sono arrivato in piazza proprio davanti al cupolone vedete se no ma sono arrivato con le mie gambe stanno suonando anche le campane per il nostro arrivo è bellissimo percorso un po caldo ma siamo qua stavo dicendo che c'è l'avanzo di grattachecca qua la marina è buonissima con l'acqua di san pietro salute è stato un viaggio molto lungo e molto periglioso però infine siamo approdati a porti sicuri buonissima 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 94 km fatti anche oggi, che dire, le emozioni poi ve le racconterò con calma, adesso sono cotto e bollito, ciao ragazzi.